Ex provincia al collasso, l'Anci Sicilia chiede aiuto a Roma. ZTL a Palermo, da oggi attivo il numero AMAT per ricevere tutte le informazioni. Domenica ad Altofonte, incontro per la scalata al titolo italiano Pesivelter. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews. Oggi è mercoledì 2 marzo. Come avete sentito nei titoli, ex provincia al collasso, la tenuta finanziaria è quasi impossibile. L'Anci Sicilia chiede aiuto a Roma. I segnali di queste ultime ore rispetto alla tenuta finanziaria dell'ex provincia confermano le preoccupazioni più volte espresse da Anci Sicilia circa la necessità di definire un assetto più razionale della governance del territorio. Lo hanno detto Leoluc Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario dell'Anci Sicilia, che sottolineano come da circa due anni e da ultimo nel corso delle recenti audizioni nell'ambito della legge di stabilità regionale sia stato evidenziato più volte come la gestione dei liberi consorsi e delle città metropolitane non sia allo stato possibile se non attraverso un ripensamento delle funzioni e delle fonti finanziarie. Per tali ragioni l'Anci Sicilia chiede, come già proposto dall'assessore Baccei, che insieme al governo regionale si avvii un immediato confronto con Roma, consapevoli del fatto che un assetto stabile nella gestione del territorio di comuni e degli enti di secondo livello debba presupporre un'intesa tra governo nazionale, governo regionale e sistema delle autonomie locali. Le conseguenze di questa situazione, conclude Paolo Amenta, vicepresidente dell'Anci Sicilia, stanno determinando un grave pregiudizio in settori vitali come la manutenzione delle strade provinciali, la gestione delle scuole secondarie e nel garantire i livelli minimi dei servizi socioassistenziali per i disabili. Vi è in quest'ultimo caso il forte rischio che le famiglie coinvolte possano contestare la mancanza di erogazione dei servizi con conseguenze anche di natura giudiziaria. Finanziaria, tagli e prelievi incideranno negativamente sull'economia e la vita di tutti i siciliani. Adesso si riapre la partita con Roma per i 500 milioni di euro promessi. Approvata la legge di stabilità, tornerà ad aprirsi la partita con il governo nazionale. L'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei andrà a Roma a chiedere almeno i primi 500 milioni promessi presentando le norme approvate. Senza quelli le due settimane di lavoro all'Ars saranno state inutili, liti e polemiche compresi. Così come inutili diventeranno il prelievo da 50 milioni di euro dal Fondo Pensioni dei Regionali, quello di 127 milioni e 850 mila euro dal Fondo Sanitario e la valanga di tagli che incideranno negativamente sull'economia e la vita di tutti i siciliani. Fra le norme che la maggioranza dice di voler fare subito per porre il rimedio ai guassi e alla finanziaria c'è anche la proposta di legge annunciata ma non preparata per tornare a mettere un tetto agli stipendi dei manager che sono stati liberalizzati e la riforma di riscossione Sicilia. Intanto bisogna ottenere questi 500 milioni consapevoli che lo strumento economico finanziario regge comunque solo fino a giugno o luglio. Poi sarà necessaria una variazione e soprattutto che Roma prosegue a lungo la strada che porta fino al miliardo e 400 milioni necessari per il 2016. Sindacati accusano governo senza strategia per la Sicilia, senza dialogo con le parti sociali non si va da nessuna parte. Si cominci col rimettere in discussione la gestione dei fondi comunitari. Tutte le questioni aperte dalla finanziaria alla gestione dei fondi europei confermano che in Sicilia manca un'azione di governo improntata ad una visione d'insieme per una strategia tale da dare risposta ai problemi sul piano economico, sociale e occupazionale. Lo dicono in una nota congiunta i segretari generali di CGL Cisle Will Sicilia, Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone. I sindacati hanno disertato assieme alle associazioni datoriali la riunione del comitato di sorveglianza per rimarcare la loro richiesta di inversione di rotta. Di certo sostengono Pagliaro, Mimmo Milazzo e Barone, i tavoli di concertazione convocati all'ultimo minuto sono un rito inutile. Occorre confrontarsi su progetti reali e non perdere altro tempo prezioso. I sindacati rilevano che le risorse europee, vista la situazione disastrosa e il bilancio regionale, sono le uniche disponibili per dare all'isola sviluppo e lavoro e chiedono alla regione di rimettere in discussione la gestione di questi fondi. I segretari di CGL Cisle Will alzano dunque il tiro, mandando a dire a Crocetta che senza il dialogo con le parti sociali è dimostrato che non si va da nessuna parte e concludono appellandosi al governo affinché apra un confronto finalizzato a mettere sul tappeto alcune questioni non più rinviabili, incardinando un percorso condiviso sul quale bruciare le tappe, considerato anche che con quest'ultima finanziaria non stiamo assistendo a niente di nuovo. Cambiamo argomento, omicidio di Loris Stival, domani sarà interrogato il nonno paterno indagato per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Ore di attesa per Andrea Stival, il nonno del piccolo Loris. L'uomo infatti sarà interrogato giovedì alle 10 dalla procura di Ragusa, al momento Stival è indagato per concorso in omicidio e occultamento di cadavere dopo le dichiarazioni della nuora Veronica Panarello, che afferma di aver avuto una relazione con lui ed essere stata scoperta dal figlio Loris, assassinato a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014. L'iscrizione nel registro degli indagati è per la procura un atto dovuto dopo la nuova versione shock di Veronica. L'uomo ha negato sia la relazione con la nuora che l'omicidio del nipote, non si esclude che possa essere sentita anche la compagna di Andrea Stival, Andreina. I fatti, secondo il nuovo racconto della Panarello, risalgono al 19 novembre 2014, 10 giorni prima che venisse assassinato il bambino. I bambini erano a letto e dichiarato la donna, pensavo che dormissero, io e mio suocero abbiamo avuto un rapporto sessuale in cucina e Loris ci ha visti. Corse subito in camera sua e io lo raggiunsi, io ero disperata, lui molto arrabbiato. Ad uccidere Loris, secondo Veronica, sarebbe stato il nonno paterno. Andrea cominciò a discutere con il bambino, poi mi chiese di andare a prendere qualcosa per farlo stare fermo. Quando sono tornata, Andrea aveva preso un cavetto USB grigio del computer e lo stava stringendo attorno al collo di Loris. La donna al momento è detenuta nel carcere di Catania per l'assassino del figlio. In precedenza, Veronica aveva anche confidato ad una psicologa che il nonno avrebbe voluto abusare di Loris e avrebbe anche delle attenzioni nei confronti del fratello più piccolo. ZTL a Palermo, da oggi attivo il numero AMAT per ricevere tutte le informazioni, dettagli sui tratti stradali, orari e giorni di validità, sanzioni, tariffe e modalità di pagamento. Inizia a Palermo il conto alla rovescia per l'entrata in vigore delle zone a traffico limitato. Da oggi è attivo, dalle 9 alle 18, il numero AMAT 091 35 03 50, per ricevere informazioni sulle ZTL. Ai cittadini saranno forniti dettagli sull'area e del perimetro, tratti stradali di libero transito, orari e giorni di validità, divieti, disciplina di accesso, transito e sosta, sanzioni, tariffe, agevolazioni, punti di informazione e modalità di pagamento. Dal 14 marzo, invece, anche sul sito del Comune di Palermo, verrà attivato il servizio online di prenotazione dei pass che potranno essere pagati tramite bollettino postale o bonifico bancario e che saranno recapitati a casa entro sette giorni successivi al pagamento. Infine, il 21 marzo partirà il servizio di pagamento online attraverso carta di credito o banco posta, con rilascio immediato di un pass temporaneo e con il recapito a casa del pass definitivo entro sette giorni. Contemporaneamente sarà attivato il servizio di rilascio pass presso le sedi AMAT di via Manin e via Giusti, presso i depositi del tram di Roccella e Castellana e alla cittadella universitaria di Viale delle Scienze. Mentre da ieri l'AMAT ha sospeso l'attività di vendita di biglietti, abbonamento, car e bike sharing presso il centro commerciale Conca d'Oro di Via Lanza di Scalea. Si salva dallo schianto in autostrada ma precipita nell'intercapedine del viadotto e muore sul colpo. E' accaduto sulla Palermo-Catania. La vittima aveva 31 anni. Ancora sangue sulle strade siciliane. Una nuova tragedia si è consumata sull'autostrada A19. Ad averla peggio è stato un uomo romeno di 30 anni che ha perso la vita dopo essere precipitato per 30 metri da un viadotto tra Scillato e Tremonzelli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto si è scontrata contro uno spartitraffico al chilometro 70. A bordo si trovavano due persone rimaste in lese. Una volta scesi dall'auto, uno di loro si è reso conto che stava per arrivare una vettura e, temendo di essere investito, ha scavalcato il Gard Lyle precipitando da 30 metri. Sembra che l'uomo, resosi conto che sotto di lui c'era il vuoto, si fosse disperatamente aggrappato al Gard Lyle ma la pioggia ha reso scivolosa la presa. L'altro passeggero ha immediatamente contattato i soccorsi, ma per il trentenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada. Al momento proseguono le indagini per capire se l'uomo alla guida si trovasse sotto effetto di sostanze stupefacenti o se fosse ubriaco. Prosegue così la lunga scia di incidenti. Un altro scontro tra una Fiat Panda e una Mercedes C220 è costato la vita stavolta a fortunato Giuseppe Cuccia, 53 anni, di Baucina. L'uomo è morto nei pressi dello scorrimento veloce Palermo Sciacca. A chiamare i soccorsi è stato il conducente dell'altra vettura, che viaggiava insieme alla figlia, rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle autovetture, i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno trasportato uno dei conducenti feriti in ospedale. Voltiamo pagina. Venerdì prossimo il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, conferirà un pubblico encomio a Maria Lucia Ferruzza e Serena Raffiotta, le due archeologhe che hanno permesso di identificare e riportare a Morgantina la testa di Ade, reperto trafugato dalla Sicilia negli anni 70. Si sono portati questi riccioli, si è fatto nuovamente la prova, prima si è fatta col calco e poi si è fatto con i riccioli veri e si è constatato che alcuni aderivano perfettamente. Quindi era la prova provata che quella statua proveniva appunto da Morgantina e proveniva dal contesto di questo santuario dedicato a Demetri e Core che tra l'altro nel 1978 aveva subito degli scavi clandestini. Un calo di visitatori però è un museo molto importante, io lo immagino come il museo dei nostri, cioè dei ritorni, il museo dei recuperi appunto in cui questi capolavori hanno ritrovato il loro contesto di appartenenza. Perché per noi archeologi un materiale anche prezioso che però non ha un contesto culturale di riferimento è un'opera muta, è un'opera che non ci può raccontare appunto del suo passato. E il fatto di avere ricollegato la testa a Ricciolo e al contesto di un santuario demetriaco, di un santuario dedicato a Demetra, ha reso possibile l'identificazione della testa con la divinità Ade. Ade era il dio dell'Oltretomba, dal punto di vista culturale ritrova il suo valore, ritrova il suo valore. Poi sta a noi saper valorizzare quel museo all'interno appunto di un territorio che è ricchissimo perché è a Edone, vicino a Piazza Armerina, quindi è un distretto culturale molto molto importante. Un itinerario teologico per il giubileo straordinario della misericordia. Vuole essere questo il libro e il Vangelo della misericordia per un nuovo sviluppo globale, itinerario teologico scritto da Monsignor Lorenzo Leuzzi, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Universitaria. Il testo pubblicato dalla libreria editrice Vaticana è stato presentato ieri sera a Palermo. L'intervista. Perché Papa Francesco ha voluto un giubileo straordinario della misericordia? La risposta che io mi permetto di proporre con questo testo è che il Papa risponde a un'esigenza della società, cioè la società che chiede alla Chiesa di presentare il suo Dio, la sua proposta religiosa, ma soprattutto di verificare se Dio può entrare nella storia. E questa è la grande sfida che la Chiesa ha davanti a sé, perché noi viviamo in un mondo in cui la dimensione religiosa diventa sempre più diragante, che certamente è un aspetto positivo, ma può portare anche a una difficoltà di venire incontro all'esigenza della società contemporanea. Ecco, allora credo che l'intuizione di Papa Francesco sia davvero un grande servizio per la società contemporanea, perché per la sua esperienza di globalizzazione e dinamicità, dopo i fragmenti o quantomeno le difficoltà che alcune proposte del Novecento hanno offerto alla società, pensiamo all'esperienza marxista, libera e capitalizza con la crisi del 2008, ecco, credo che questa responsabilità Papa Francesco l'ha avvertita e con il Giubileo vuole rispondere a questa attesa della società contemporanea, offrendo non un Dio misericordioso, ma offrendo il Vangelo della misericordia, così come emerge nella bora di indizione Misericordia e Vultus, dove Papa Francesco indica in Gesù Cristo il vero voto della misericordia di Dio. E questo significa allora che la Chiesa è chiamata a dare una testimonianza, non solo con le opere, ma anche con la proposta di progettualità che aiuti la società a saper guardare avanti, ripartendo anche da alcuni errori compiuti nel passato, ma sapendo che Dio è presente nella storia e quindi insieme, soprattutto con i battezzati, è possibile ripensare un nuovo sviluppo globale a cui Papa Francesco ha richiamato non solo la Chiesa, ma tutta l'umanità nella sua enciclica, laudato sì. Il pugile professionista bagherese Pessovelter Giovanni D'Antoni sarà impegnato domenica prossima al Palazzetto dello Sporto di Altofonte contro il campano Giuseppe Rauseo per la scalata al titolo italiano della categoria Pesi-Velter. Le interviste. Domenica ad Altofonte ci sarà una manifestazione pugilistica mista, si disputeranno diversi match, sei match direttantistici e tre professionistici. Tra i professionisti combatteranno Giancarlo Bentivegna della Palestra Popolare Palermo e Giovanni D'Antoni della Body Power Martorana di Bageria. Entrambi i match sono validi per la scalata al titolo italiano. Giancarlo Bentivegna all'ottavo match, finora imbattuto da professionista, Giovanni al quindicesimo match. Giovanni ha già disputato una volta un match per il titolo italiano contro il detentore del titolo un paio di anni fa, Frezza, un match che è stato controverso nel suo verdetto, discusso. Mi ricordo che benvenuti alla telecronaca disse anche che gli arbitri hanno visto un altro match probabilmente, perché l'idea era una sconfitta. È stata un'avventura che ho già fatto, soltanto con una definita buona, però ci ritentiamo per portare il titolo a Bageria. Aspettative per il futuro, nuovi incontri, ti stai allenando per qualcosa che avverrà più là? Momentaneamente stiamo preparando per il titolo italiano, infatti stiamo facendo questa scalata per conquistare il titolo. Abbiamo avuto qualche problemino, ma lo stiamo risolvendo, perché il pugile che abbiamo sfidato, Emanuele Cavallucci, purtroppo si è infortunato, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare un altro sfidante, un altro pugile, ma abbiamo risolto, il match si disputerà, come abbiamo detto sempre giorno 6, contro A di Catana, un pugile laziale, se non erro. Non abbiamo nessun aiuto economico sia dalle amministrazioni comunali e sia dagli sponsor delle aziende per questo periodo di crisi. Tanta dedizione, oltre a loro c'è una squadretta di dilettanti che hanno vinto a dicembre i campionati d'Italia e a novembre quelli di School Boys che sono stati selezionati nella nazionale d'Italia. Speriamo che portano medaglie di livello internazionale. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. Grazie. Grazie.